Ciao a tutti, finalmente trovata la soluzione per il fastidiosissimo bug che ci impediva di aprire alla nuova versione di After Effects Il percorso da seguire per risolvere il problema è questo Non è stato facile trovarlo, perché il problema è che bisogna accedere tramite go to folder Il percorso corretto quindi è users, il vostro nome utente, library, preferences, adobe, after effects E io mi sono ritrovato alla cartella 16.1 Mi ritrovo quindi a questo file E in realtà io qui me ne trovo due, perché ho scaricato due versioni di After Una prima che non funzionava e una seconda che mi dava lo stesso problema A questo punto però che cosa succede? A me non interessa più qual è la versione corretta, sono lì tutte e due Io quello che vado a fare è sbloccare il lucchetto Autorizzare con la mia password Sotto questa voce vi troverete lettura e scrittura Probabilmente vi troverete no access o solo lettura Insomma impostate lettura e scrittura per tutto quanto E gli dite applica a tutto In questa maniera Fatelo su entrambe Io non so quale sia la versione corretta, l'ho fatto su entrambe E After funziona Quindi problema risolto Io non so quale sia la versione corretta, l'ho fatto su entrambe